amici del lago big fish ma soprattutto amiche del lago big fish 2 ragazzi è sera e sera e guardate quest'uomo ah c'è della robina così guardate quest'uomo primo lancio e ha preso questo bassettino qui ah va ragazzi tu non vi dico ma non faccio non vi dico con cosa l'ha preso perché è una roba cioè vabbè col vivo hai innescato a uochi no ragazzi stavo usando un'esca della megabus che veramente altissimo livello altissimo livello o ragazzi è un bombardamento è un bombardamento il lago la sera bolle tra trote bass ci sono gli stripped che sono in sono in fregola di brutto ti corrono dietro ogni lancio sei due spigole dietro poi chiaramente non mangiano però la riproviamo chiaramente in diretta non prenderemo niente lo sai che in diretta non si prende meglio guarda 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 fanno andare giù fanno andare giù boom 2 ce n'hai qua uno è arrivato guarda guarda è andato a prenderlo sul fondo raccoglierlo sul fondo guarda 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 in mezzo alle alghe no ragazzi no ragazzi se uno allora allora lancia lì guarda ce ne sono tre se ne sono tre allora se uno ama la pesca al bass deve venire assolutamente questo paradiso deve venire assolutamente e poi vi dirò che appena abbiamo finito con le trote guarda 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 aspetta aspetta insomma dicevo appena abbiamo finito con le trote butteremo giù degli altri bass belli ma dei bass belli 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 solo roba bella come come il proprietario ecco hai rovinato tutto va bene ragazzi qui dal big 2 tutto noi vi aspettiamo tutti i giorni dalle 8 al tramonto per delle pescate al bass veramente spaventose saluti lei un saluto a tutti gli utenti del lago gli utenti bello utenti era dall'84 che non lo sentivo un saluto a tutti i giorni dalle 8 al tramonto per delle pescate al bassi che non lo sentivo